salve qui il vostro capitano santriciano che vi saluta e vi annuncia che sta per iniziare un'altra stagione dei video e dei messaggi del capitano santriciano e spiace di aver dovuto interrompere questa produzione e all'estate ma adesso che stiamo in autunno e che realmente oggi fa un freddo pazzesco invernale 12 grandi 12 gradi convento riprendo nella mia produzione abituale il capitano santriciano che tanto avete seguito e tanto vi ha appassionato sperare le sue sue suggerimenti e consigli al nostro amico marco travaglio soprattutto che mi metta me come capitano della nave e che mi dia lavoro nella redazione del suo giornale il fatto quotidiano ritorno con questi argomenti di punta e con moltissimi altri quindi non lasciate di seguirmi come avete fatto fino adesso ritorno ero con nuovi episodi del capitano santriciano questa è un'anteprima arrivederci e grazie di seguirmi grazie a tutti 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 grazie a tutti